Siamo allora sui campi, primo Roma per Roma-Verona, Riccardo Cucchi. Matistuta rientra nella Roma ma soltanto in panchina, l'argentino dunque non sarà il terreno di gioco, almeno in avvio di gara. Questa è la scelta di Capello, centrocampo dunque rinforzato con Assunzau e Lima e due punte, Totti e Del Vecchio. Ma vediamo le formazioni, così la Roma. Antonioli in porta, poi difesa a tre con Zago, Samuel e Zebinà. A centrocampo Panucci e Cafus sono gli esterni, Emerson, Lima e Assunzau, i centrali, mentre Totti e Del Vecchio comporranno la coppia offensiva. Nel Verona nessuna novità, è la squadra annunciata quella che andrà in campo. Ecco il Verona dunque, Ferroni in porta, difesa a tre, Paolo Cannavaro, Zanchi e Gonnella. A centrocampo Oddo italiano, Leonardo Colucci e Seric in attacco il tridente composto da Camoranesi, Frick e Mutu. Nella Roma, come avete sentito, rientra Zago e Panucci rileva anche nel ruolo Candelà, è indisponibile una Roma, quella disegnata da Capello, che esalta la compattezza e la solidità della capolista, che all'Olimpico non incassa reti da ben 566 minuti. Anche il Verona non rinuncia alla sua fisionomia, velocità, grinta e buona propensione ad attaccare le sue qualità. Arbitra Braschi di Prato, la linea va a propensare. Vediamo gli sviluppi, poi vi racconterò la dinamica, Corini parte da fuori area per battere questo calcio di rigore. Corini contro Malinger, finta, tiro, parato, ma poi la palla entra in rete. Aveva intuito il tiro, Malinger si era disteso in tuffo. C'è il gol del Verona, chiediamo scusa a Livio Forma, pochi istanti dopo l'esecuzione del calcio piazzato, che stava raccontando il collega, è entrato in area di rigore Mutu per il Verona. Si è prodotto in un tiro in diagonale, su quale nulla ha potuto il porchere giallorosso Ferrone. Dunque a quarantaquattresimo e trenta secondi, il Verona ha sorpresa, è in vantaggio all'Olimpico per uno a zero, autore della rete, ripetiamo Mutu. Roma a zero, Verona a uno, a te la linea a forma. Roma. Siamo al quarantaseisimo e trentacinque secondi, dunque in fase di recupero per quanto riguarda il primo tempo. Ricordiamo che il Verona è in vantaggio per uno a zero. C'è ancora Mutu che sta attaccando, è l'autore del gol del vantaggio giallo-blu. Mutu che è attaccato da due giocatori. Torniamo sull'episodio del vantaggio veronese anticipo da parte di Mutu su Zebina, che stava disimpegnando a circa 10-15 metri dalla sua area di rigore. Scatto da parte del giocatore rumeno, inseguito vanamente da Samuel, Mutu è entrato in area di rigore. Ha lasciato partire un diagonale dai 14 metri, su quale nulla ha potuto Antonioni. E proprio in questo istante si chiude il primo tempo, dunque vi confermiamo il vantaggio del Verona sulla Roma, qui all'Olimpico, grazie alla rete siglata, quarantaquattresimo da Mutu, la linea va a Provenzali. Realizzato da Lucarelli per quanto riguarda la ripresa... Raddoppio del Verona, raddoppio del Verona ancora con Mutu all'ottavo minuto di gioco e proteste giallorosse per un fallo che avrebbe subito proprio in occasione dello scatto di Camoranesi, del vecchio all'altezza della zona centrale del campo, anzi non di del vecchio, bensì di Panucci, ci correggiamo. Per l'arbitro tutto regolare, scatto di Camoranesi, passaggio preciso al centro per Mutu, libero da marcature, Mutu ha driblato il portiere romanista Antonioni e ha messo in rete, praticamente a porta sguarnita. Per il 2-0 del Verona, che registriamo all'ottavo dunque, momento davvero difficile per la squadra giallorossa, Roma 0, Verona 2, a te la linea. Grazie, stavo concludendo. Per il Parma, Assunzao, Assunzao per la Roma che accorcia subito le distanze, al nono minuto di gioco, un minuto dopo il raddoppio del Verona, Assunzao cambia il punteggio dell'Olimpico, Roma 1, Verona 2, a te la linea, Carafa. Roma-Verona. Partita palpitante, dunque due gol nel raggio di appena un minuto, prima il raddoppio veronese con Mutu e poi un minuto più tardi il gol di Assunzao. La Roma dunque torna in partita. Sulle gol di Mutu da registrare le proteste da parte della squadra giallorossa per un fallo dello stesso Mutu, che mentre preparava lo scatto sulla fuga di Camoranesi sulla fascia destra, si è scontrato con Panucci. E' finita terra il difensore giallorosso, dunque si sono spalancate le strade verso il limite dell'area di rigore per Mutu, poi servito molto bene da Camoranesi e ha messo in rete, come abbiamo ricordato, il giocatore rumeno, scartando anche Antonioli. La Roma però ha protestato per il mancato intervento di Braschi che in pratica ha consentito al Verona una superiorità numerica poi sfruttata da Mutu. Intanto veniamo alla Roma che sfrutta un calcio d'angolo con palla che finisce però sull'esterno della rete. Roma che si è portata prepotentemente all'attacco in avvio di ripresa dopo l'ingresso in campo di Battistuta, lo ricordiamo, a posto di Zebina. Roma che però rischia naturalmente in contropiede, visto l'atteggiamento tattico naturalmente votato alla rimessa da parte del Verona che può sfruttare il tridente con l'attivo camoranese, con l'abile Mutu, ma anche con Frick sempre pronta eventualmente ad intervenire in azione. Dicevamo dunque la Roma però è riuscita a pareggiare, a crociare distanze con Assunzau e dunque a tornare in partita e adesso sta giocando una gara molto gagliarda, molto motivata, determinata rispetto a quella del primo tempo che invece era apparsa opaca. Top intanto tra lunga distanza e la palla finisce sul fondo. prima del 2-0 del Verona, da registrare due tentativi da parte dei Giororossi. Al terzo del vecchio aveva tentato il tiro a volo con il sinistro, la palla è stata colpita al volo ma è uscita di poco a lato. Al quinto aveva provato il tiro anche Francesco Totti dai 16 metri, Ferron aveva neutralizzato in due tempi il tiro del capitano Giororosso. Partita dunque quanto mai viva. Al dodicesimo minuto ribadiamo il punteggio, Roma 1, Verona 2 e la linea va al 20 gol. Serie 5 di De Canio, Montezini al posto di Bocchetti, Graffiedi in quello di Lucchi. Grande gol da parte di Cassano in rovesciata in area di rigore su un cross preciso da parte di Cafu e la Roma pareggia il conto delle reti. Diciottesimo minuto di gioco all'Olimpico. Un minuto fa Cassano aveva rilevato sul terreno di gioco del vecchio e ha premiato con questa splendida rovesciata la scelta di Capello suggerita al suo vice Italo Galbiato realizzando un grandissimo gol. La Roma pareggia dunque 2 a 2 all'Olimpico e la linea torna a Benevento dove avevamo praticamente concluso. Roma-Verona. Dunque il pareggio da Roma con Cassano che naturalmente ha strappato gli applausi della curva. Davvero una bella rovesciata, una bella girata quella di Cassano sulla penetrazione precisa di Cafu. Ripetiamo ancora, Cassano era entrato un minuto prima della sua prima conclusione, in pratica alla prima palla toccata, era entrato al posto di Del Vecchio che per la verità soprattutto nel primo tempo non aveva convinto molto. Prima di uscire Del Vecchio al quattordicesimo aveva protestato peraltro nei confronti di Braschi per un fallo, un presunto fallo di mano nell'area di rigore veronese su uno suo tiro e da parte di Italiano. Peraltro i due erano molto vicini e forse anche questo è inciso nella valutazione da parte di Braschi. Dunque la Roma riequilibra le sorti del confronto 2-2. Il Verona si era portato in vantaggio per 2-0 realizzando il quarantaquattresimo del primo tempo e poi all'ottavo della ripresa con Mutu e poi le reti di Assunzao che abbiamo raccontato al nono minuto di gioco e poi al diciottesimo quella di Cassano. Ancora Verona pericolosamente in attacco e ancora una volta l'intervento di Antonioli nega il gol alla squadra veronese, questa volta Camoranesi si era portato pericolosamente al limite dell'area piccola. Verona sempre molto pericoloso, la Roma adesso non cesserà di attaccare, naturalmente vuole i tre punti. La squadra di Fabio Capello continuerà ad esporci al contropiede micidiale da parte della formazione di Malesani. Partita dunque assai vivace e divertente. Ribadiamo intanto il punteggio 2-2. Siamo giunti al ventesimo della ripresa e la linea va a Bentegodi. C'è un attacco del Verona che seguiamo con il colpo di testa del neo entrato Gilardino. Punizione battuta dalla Roma che sta avanzando con Samuel. Samuel cerca di verticalizzare la palla lunga per Totti, non ci arriva. Ci arriva invece Gabriel Battistuta che scambia con Cassano nello spazio breve. Totti, il pallonetto di Totti per Battistuta. La conclusione con il sinistro, palla al lato, di pochissimo a sfiorare il palo, la destra da parte di Ferron. Ottimo dialogo tra i tre giocatori giallorossi, Cassano, Totti e Battistuta. E ultimo passaggio in area di rigore per Battistuta che ha fallito di pochissimo il bersaglio. Ancora 2-2, 40 minuti da giocare, 5 al termine, la linea è Valbette-Godi. Piacenza 1, Lazio 0, 2 minuti e mezzo alla fine della partita, linea Bergamo. Dove si giocherà fino al cinquantesimo per effetto dei 5 minuti di recupero concessi dal signor Bolognino. Ristabilita soltanto per pochi minuti la parità numerica. Andiamo a spiegarci, espulso per doppia munizione Berretta. Roma in vantaggio, Roma in vantaggio. Gabriel Battistuta, deviazione vincente, sotto misura a meno di un metro dalla porta di Ferron. E la Roma si porta in vantaggio, esattamente a 44esimo e 37 secondi. Al ritorno dopo un mese dall'infortunio di Parma, Battistuta porta in vantaggio e forse definitivamente la sua formazione. Il punteggio, Roma 3, Verona 2 a tela linea. Stavamo parlando prima che intervenisse Riccardo Cucchi per ricordare che l'infortunio a Zenoni costringe l'Atalanta in 9 uomini. Effettuato il doppio cambio pochi minuti prima è cambiata la linea d'attacco dell'Atalanta. Dentro sono comandini, attenzione, in avanti il Bologna, pareggio! Pareggio della Bologna, esattamente al 48esimo con Brioschi. Incredibile, il Bologna è riuscito a pervenire al pari proprio a due minuti dal termine della partita. Azione confusa in era di rigore, ultimo tocco di Brioschi alle spalle di Taibi, 2 a 2, cambia il punteggio. Ancora molto avrà da raccontare questa partita, per il momento noi ci fermiamo qui e restituiamo la linea Palermo. Roma. Mancano pochi secondi alla fine della partita, grande entusiasmo sugli spalti, dunque la Roma si è portata in vantaggio. Mentre il direttore di gara ha estratto il cartellino giallo anche all'indirizzo di Leonardo Colucci, capitano del Verona. Dunque 3 a 2 il punteggio in favore della Roma. Bello davvero il pollo. Stavate Cucchi, finale anche da Piacenza, Piacenza batte Lazio, 1 a 0, della linea. Bello davvero il gol di Battistuta, c'è stato un cross di Cafu sul calcio di punizione, un colpo di testa di Emerson in area di rigore e un'entrata al volo in scivolata sotto misura da parte di Gabriel Battistuta che ha messo alle spalle di Ferron per il 3 a 2 in favore dei giallorossi. Si continua a giocare ma manca davvero pochissimo. Vediamo Cafu sul gruppo di un calcio di punizione, crossare la palla bassa in mezzo. C'è il tentativo di tiro da parte di Totti, sbilanciato. Attenzione Cucchi, c'è il finale di Palermo. Palermo batte Empoli, 1 a 0, linea all'Olimpico. Attenzione Cucchi, sì finale anche a Bergamo, Atalanta e Bologna 2 a 2. Ed è il finale anche all'Olimpico dove la Roma completa la sua rimonta nei secondi conclusivi della ripresa e vince battendo il Verona per 3 a 2 dopo essere stata in vantaggio, anzi in svantaggio per 0 a 2. C'è anche il finale di Venezia, scusa Cucchi, la Juventus abbatte il Venezia per 2 reti a 1. E allora andiamo ai commenti cominciando naturalmente dalla partita dell'Olimpico. Roma-Verona con Riccardo Cucchi. Beh davvero straordinaria la rimonta da parte della squadra giallorossa dallo 0 a 2 al 3 a 2. Grande prova di carattere, di mentalità, di forza. Tempo opaco e dopo le due reti di Mutu, per noi il migliore in campo, la Roma non si abbatte. E trova invece i gol di Assunzao, di Cassano e di Battistuta nell'ordine. Una Roma trasformata nel secondo tempo, molto rimissiva nella prima parte della gara. Ha subito soprattutto dal quarto d'ora in poi il Verona veloce e grintoso che conosciamo. Ha subito soprattutto Mutu che è stata una vera spira nel fianco nella difesa giallorossa. Ma ripetiamo, la Roma determinata, soprattutto interpretando la gara come doveva essere interpretata, in attacco dal primo all'ultimo minuto della ripresa. È riuscita in estremis a realizzare il successo, a conquistare il successo e a conquistare i tre punti. Davvero molto importante questa prova, soprattutto per il ritorno al gol di Gabriel Battistuta che dopo un mese di assenza è tornato a dare il suo contributo. Immaginiamo sarà un contributo importante nel girone di ritorno per la squadra che aspira alla conferma del titolo tricolore. Roma 3, Verona 2, a Telenine Provenzali. Roma 3, Verona 2, a Telenine Provenzali.